ciao a tutti e bentornati a crime and comedy il podcast di true crime condotto da due comici e cioè marco e champier e clara campi ciao a tutti ciao a tutti bene adesso siamo proprio in piena estate siamo in piena estate adesso non lo so perché stiamo pre registrando queste puntate se per noi per noi sta finendo febbraio no non è vero del 2021 quindi pre registrate la madonna no 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 pre registrate non vuol dire registrate così tanto presto e oggi abbiamo una storia per la nostra capsule che ci avete richiesto una storia che è un po' infarcita di leggenda secondo me ma adesso scopriamo insieme perché oggi ragazzi parliamo di daniel la plant eccoci qui con la storia di daniel la plant la plant come si pronuncerà la plant forse io l'ho detto un po' l'americana la plant lui è americano però sì però il cognome sembra francese quindi le penne no no quella è un'altra cosa comunque questo caso ce l'ho chiese anni fa a questo punto il nostro caro mauro cremonini che non sentiamo da un sacco esatto mauro se ci sei batti un colpo esatto facci sapere se va tutto bene noi intanto ti dedichiamo questa puntata e la dedichiamo anche a nicola gabriele almeno che fa gli anni in questi giorni insomma quindi tanti auguri tanti auguri nicola tanti auguri e benvenuto nella nostra famiglia patreon esatto tanti auguri e niente benvenuto come benvenuti anche esatto esatto e appunto diamo benvenuto anche a tutte le nostre nuove patron io ve l'ho già detto io uso femminile plurale perché comunque la maggioranza sono donne e quindi salutiamo le nostre nuove patroni bristofile che sono bianca tamagni monica b claudia de bernardis ross bonni che ha fatto l'upgrade o il downgrade vabbè poi va bene lo stesso malfi marco alberto maestra chiara pamela becci jessica giudice mary 91 silvia sambuceti salvatore bruni raffi j io deduco che si legga così vania zeni francesca moriconi veronica lora lucy writer silvia violet o violet no vabbè dai direi violent e che ne so non c'è la n angie ela e mary valle grazie mille di essere entrate nella nostra famiglia patreon grazie grazie a tutti tutte tutti tutte ma chi se ne frega grazie grazie allora sembra proprio che la trama delle nostre capsule in quest'estate sia storie assurde sì sì che questa è un'altra storia assurde americane è tutta ambientata negli stati uniti ma è ovvio ma è ovvio perché loro hanno elevato la la come si dice il crimine a livelli paradossali assolutamente ma infatti questa storia sembra un film horror degli anni 80 sì e infatti lo è perché siamo nel 1986 e ci troviamo in massachusetts siamo massachusetts come ho detto 1986 due sorelle di cui non sappiamo il nome o meglio queste due sorelle hanno due nomi diversi a seconda di che fonte consulti hanno dei nomi diversi quindi ok cioè nel senso non tra di loro no sarebbe logico no alcuni usano un nome altri ne usano un altro io ho cercato di capire quali fossero i nomi veri e quali gli pseudonimi non l'ho capito perfetto e lo vedi di di tutti allora allora secondo wikipedia si chiamano tina e karen bowen però secondo la maggioranza degli articoli che si trovano online si chiamano annie e jessica andrews e darei ragione a la maggioranza degli articoli che si trovano online a meno che si a meno che non abbia sbagliato il primo da cui tutti gli altri poi hanno copiato assolutamente ma secondo me non è uno sbagliare è proprio una scelta cosciente di usare perché non è che sono nomi che si assomigliano una scelta cosciente di usare degli pseudonimi mi è venuto anche il dubbio che possano essere entrambi pseudonimi che nessuno sappia il nome vero quindi anche ascolta chiamiamoli chiamiamole annie e jessica che mi piacciono di più ma bene karen va bene quindi due sorelle annie e jessica andrews che potrebbero anche chiamarsi in un altro modo di 15 e 12 anni annie è la più grande a 15 anni jessica è la più piccola ne ha 12 hanno purtroppo da poco perso la madre per un tumore e trattandosi di due adolescenti del 1986 che cosa fanno marco ovviamente una seduta spiritica è giusto perché è una roba proprio d'anni 80 si mettono lì con la ouija board con le candele quelle cose lì e cercano di fare questa seduta spiritica per mettersi in contatto con la madre che hanno tragicamente appena perso chiamano gli spiriti e oh la madre risponde loro iniziano a fare domande e la madre risponde però non con la ouija board ma bussando dai muri quindi iniziano a sentire queste bussate questi questi tonti dal muro e le due ragazze insomma sono contente che sta funzionando la seduta spiritica però hanno molta paura ovviamente come l'avremmo tutti e all'inizio loro sono convinte che si tratti della madre visto che loro hanno convocato la madre quindi a livello logico è la madre però la madre tra virgolette continuerà a bussare dai muri anche durante le sere successive e quindi le due iniziano a dire ma forse non è la mamma forse abbiamo liberato qualche spirito che ci vuole tormentare certo forse dovevamo attaccare con la con la ouija board dovevamo attaccare invece abbiamo lasciato la comunicazione aperta e questo si continua no ma è vera sta cosa è vera è vera è vera tu devi chiudere la comunicazione col mondo degli spiriti se la lasci aperta si creano questi casini come questa storia qua ok quindi ecco ecco quindi hanno fatto come mia mamma col cellulare che non chiude mai e quindi quindi poi si sente meraviglia cioè lei non mette giù no lei lo appoggia sul tavolo a volte sì a volte prova a mettere giù non riesce perché effettivamente non prende bene il touch e quindi è un cellulare cioè non è che c'ha l'iphone 15 come non prende bene il touch cioè dal 2005 che funzionano tutti i touch e telefono del 96 il touch screen del 96 no che è che un telefono è low cost e quindi non prende bene il touch e prendi un telefono decente a tua ma prendi quei bei telefoni per anziani che c'è mica capuccetto rosso che fa la pubblicità sì 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 così vedi che mette giù perché è impossibile non mettere giù con quel telefono certo ma no ma fai di più ci sarà un cellulare ancora proprio con la cornetta che devi chiudere sì sì c'è abbiamo ancora con i flip phones se gli prendi un flip phones lei lo chiude e mette giù certo costano l'ira di dio poi non è capace di dire veramente sì andiamo avanti non è il punto della puntata questo direi quindi procediamo con la storia allora loro iniziano a preoccuparsi perché questo spirito non le lascia stare continua a bussare dai muri e allora loro spaventate decidono di parlarne con il padre il padre si chiama o brian o frank se decidiamo che di cognome fa andrew si chiama brian quindi chiamiamolo brian brian dice io non li sento sti colpi nei muri quindi ragazze da domani andate dallo psicologo certo ma ci sta perché le due bambine cioè le due ragazze comunque hanno da poco perso la madre e quindi il padre dice magari si stanno inventando che c'è questo spirito nei muri per cercare di superare il trauma quindi io le mando dallo psicologo no sì cosa non scontata negli anni 80 tra l'altro infatti le avrei mandate dallo torino cioè se sentite le botte sui muri vabbè lui le manda dallo psicologo e tutto sembra calmarsi quindi effettivamente era tutto nelle loro teste però tutto si calma tutto sembra calmarsi ho detto per un po tutto si calma ma una sera una sera in cui le ragazze sono a casa da sole perché brian stava facendo gli straordinari al lavoro sentono di nuovo i colpi questa volta i colpi sono molto molto insistenti entrano in camera di enni e vedono che sul muro c'è una scritta fatta col sangue la scritta dice sono qui trovatemi a quel punto terrorizzate le due ragazzine scappano dai vicini di casa perché fatemelo ribadire per la millenovecentesima volta è l'86 non è che hanno i cellulari si hanno il telefono in casa però non è che col cellulare chiami il papà al volo che al lavoro no fai la cosa più immediata che è andare dai vicini di casa quindi scappano dai vicini di casa i vicini di casa hanno il numero di telefono del lavoro di brian lo chiamano e lui torna a casa abbastanza scocciato da tutto questo nel momento in cui torna a casa i tonfi smettono ma la scritta sul muro c'è quindi non è tutto nella testa di queste ragazze però brian dice è un modo cioè stanno facendo tutte queste sceneggiate perché volevano che tornassi a casa perché non hanno superato la morte della madre cioè è possibile la sera non vogliono stare a casa sole quindi hanno fatto sta roba vabbè continuiamo a mandarle dallo psicologo e ho capito ma il sangue per scrivere sono qui cercatemi cioè da dove è venuto fuori ma dopo ci parliamo del sangue dopo ne parliamo dopo ne parliamo comunque passano un paio di settimane di relativa tranquillità e all'improvviso ricominciano questi tonfi questo bussare dal muro e compare sempre in camera di annie un'altra scritta col sangue che dice sono tornato trovatemi a quel punto le due scappano dai vicini i vicini chiamano brian brian torna a casa e trova effettivamente la scritta sul muro e dice ma possibile che due volte hanno fatto lo stesso scherzetto non è che c'è qualcosa sotto e poi si mette a guardare in giro per casa e vede un sacco di cose strane perché la casa è in disordine le cose sono lanciate in giro la televisione è accesa a un volume altissimo che le sue ragazze non non accendevano mai la televisione a quel a quel volume e poi su un altro muro trova un'altra scritta la scritta è sposami a quel punto brian si sta un po agitando continua a girare per casa va in bagno e vede che c'è uno stronzo nel gabinetto questo a me inquieterebbe tantissimo rudy sì infatti anch'io ho pensato subito a rudy comunque sta 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 vagando per la casa cercando di capire che cazzo sta succedendo e finalmente anche lui sente dei rumori si gira e vede un ragazzo vestito con l'abito da sposa della sua defunta moglie con una parrucca bionda in mano te lo ridico te lo ridico si si gira e vede un ragazzo giovane vestito con l'abito da sposa della sua defunta moglie una parrucca bionda e un'ascia in mano in bagno no a quel punto brian quando brian esce dal bagno lo vede ok a quindi c'era uno stronzo in bagno uno stronzo fuori esattamente però quando questo ragazzo vestito da sposa vede brian scappa via brian cerca di inseguirlo ma lui scompare perché questa è una storia di fantasmi chiaramente scompare seguimi ma lui scompare e a quel punto brian chiama la polizia la polizia arriva si mette a perquisire la casa perquisendo la casa a un certo punto spostano l'armadio di anni dietro l'armadio c'è un buco nel muro e dentro questo buco c'è il ragazzo vestito da sposa con la parrucca bionda in testa quindi il ragazzo viene arrestato e poi dopo loro vedono che questo buco non era semplicemente un buco nel muro cioè lì c'era il buco effettivo però poi pare che il ragazzo si spostasse delle intercapedini del muro quindi andando a bussare in giro per la casa dall'interno del muro perché delle intercapedini del muro anche lontano rispetto al buco che c'era dietro l'armadio trovano bottiglie di birra bottiglie d'acqua pacchetti di patatine e cose di questo tipo comunque arrestano questo ragazzo e poi nelle loro indagini vanno anche a vedere il sangue delle scritte marco il sangue era ketchup ah ok vabbè giustamente comunque questo ragazzo ha 16 anni e si chiama daniel la plant o la plant daniel la plant lui appunto viene arrestato e viene messo giustamente in un istituto psichiatrico per alcuni mesi poi lo rilasciano a posto così sì allora sì dimmi marco vai no vabbè vai avanti poi magari cioè viene fuori la cosa sono abbastanza scontro cioè lui come cazzo è arrivato a questo buco cioè loro nessuno si è accorto che c'era un buco nel muro no e ma adesso ci arriviamo no 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 va bene adesso arriviamo a tutto ma per arrivare a tutto partiamo dall'inizio all'inizio o marco ma diciamolo questa puntata di crime and comedy offerta da nord vpn la vpn dei nostri cuori che oltre a farci navigare in anonimato e in sicurezza ci permette di fare le ricerche nel modo approfondito quello che piace a voi esatto e grazie nord vpn possiamo scandagliare in modo sicuro i siti di tutto il mondo perché nord vpn blocca i download nel caso dovesse rivelare dei malware in essi presenti e poi blocca anche le pubblicità invasive e siti pericolosi e previene il phishing e notifica in modo istantaneo se la nostra mail appare da qualche parte anche nel dark web e poi serve anche per accedere a documentari che in italia non vengono distribuiti e a cataloghi di canali che da noi ancora non ci sono ma che per esempio negli stati uniti o in australia sono accessibile tramite una semplice registrazione al sito o al contrario è ancora più importante direi se giriamo il mondo e siamo in viaggio siamo all'estero possiamo accedere agli abbonamenti che abbiamo in italia su qualsiasi piattaforma italiana siamo abbonati tac possiamo accedere anche dall'estero con una navigazione fluida e veloce grazie agli oltre 6300 server in ben 111 location esatto e nord vpn tra l'altro ora si può usare su ben 10 dispositivi diversi contemporaneamente è molto utile se per esempio avete una ditta con un po di dipendenti e vi serve usare una vpn quando lavorate tra l'altro a proposito di ditte partite ive eccetera l'abbonamento a nord vpn è anche fatturabile eh sì quindi ragazzi se state bramando nord vpn potete approfittare del link di crime and comedy che trovate in descrizione per avere in offerta nord vpn più 4 mesi extra più 30 giorni soddisfatti o rimborsati la prova che sapete per me è fondamentale sull'acquisto di uno dei piani biennali di nord vpn e adesso marco torniamo a parlare di daniel la plant allora daniel la plant nasce a townsend sempre lì massachusetts il 15 maggio 1970 quindi appunto come vi dicevo nell'ottantasei a 16 anni non si trova molto sulla sua infanzia non si sa quasi niente ma quello che si sa è veramente terrificante allora suo padre è il classico padre violento che lo picchia selvaggiamente al punto che gli fa beccare tante belle botte in testa che sappiamo non aiutano e pare che non si limitasse solo a picchiarlo ma che abusasse sessualmente di lui per fortuna ad una certa la mamma lo lascia lascia quest'uomo qui e si porta via daniel solo che ecco la decisione saggia di lasciare quest'uomo è accompagnata da una decisione molto poco saggia che è andare subito a vivere con un altro uomo certo ora ci sono delle statistiche adesso io non me le sono segnata sta cosa mi è venuta in mente mentre parlavo quindi non ho i numeri esatti ma ci sono delle statistiche che dicono che comunque quando un minore vive con un uomo maschio un uomo adulto di sesso maschile non imparentato con lui le possibilità di abuso sessuale siano drasticamente più alte ok ma è anche ovvio e questo è proprio quello che succede quindi questo bambino scappa da una situazione estremamente abusante per ritrovarsi in un'altra situazione abusante perché pare che anche questo patrigno abusi sessualmente di lui beh nato fortunato no infatti infatti c'è veramente devastante sta cosa e la mamma niente se ne frega un cazzo vabbè ok non se ne accorge boh vabbè comunque a scuola perlomeno gli insegnanti notano che qualcosa non va con questo ragazzino allora intanto va molto male a scuola probabilmente dislessico e tutto poi è un ragazzino con un carattere molto chiuso molto solitario e poi questo è un indicatore che non fallisce mai puzza il ragazzino puzza crescendo un pochino poi sviluppa una terribile acne sapete quell'acne proprio che va curata con adesso non so esattamente cosa si usa però va curata con dei medicinali certo sì 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 perché comunque un problema ormonale ecco lui sviluppa quell'acne lì molto molto avanzata violenta molto violenta che comunque anche se è un problema ormonale non è un problema di igiene però la scarsissima igiene personale non aiuta certo se non se non lavi i pori c'è comunque comunque gli insegnanti notano queste cose e dicono dobbiamo fare qualcosa chiameranno forse servizi sociali ma certo che no sono gli anni 80 perché dovrebbero chiamare i servizi sociali il problema è chiaramente solo del ragazzo quindi mandiamo il ragazzo dallo psicologo della scuola certo e fin qua tu dici ok sarebbe stato meglio chiamare i servizi sociali però è già un passo avanti sì allora io sta cosa la prenderei con le pinze perché io non ci posso credere però pare e pare perché mi sa che è la versione di daniel questa però pare che pure lo psicologo non molesti sessualmente io non ci voglio credere marco però non è impossibile purtroppo abbiamo fatto troppi anni di crime and comedy per pensare che sia impossibile sì no cioè è possibile però a certo punto cioè nel senso sembra veramente una roba paradossale cioè ovunque va ovunque cioè chiunque entra in contatto con sto ragazzo lo 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 violenta eh infatti allora guarda io padre patrigno fino a lì ci credo psicologo mi sembra un po' esagerato però io riporto quello che in realtà le fonti ne parlano tutti come se fosse una certezza che lo psicologo l'abbia molestato non so comunque in ogni caso questo ragazzo è solitario fa una vita terrificante non ha amici nessuno vuole essere suo amico anche per il discorso che appunto puzza no c'è anche quello quindi lui crescendo deve trovare dei modi di intrattenersi da solo e trova un bel lobby cioè il suo hobby preferito diventa introdursi nelle case della gente quindi lui si diverte entrando nelle case dei vicini persone sia conosciute sia sconosciute e rubacchiare qualcosa ma spesso nemmeno rubacchiava a lui lui divertiva entrare nelle case e spostare le cose come Manson come la famiglia di Manson eh sì perché in effetti c'è pensi alla persona che torna a casa non manca niente però cazzo perché ci sono le scarpe nel frigorifero certo ti inquieta tantissimo no? ma assolutamente poi puoi pensare che ci siano i fantasmi in casa infatti Manson mandava quelli della sua famiglia cioè dalla sua famiglia dalla famiglia a fare queste cose qua diceva tratte dei ricchi rigirategli i quadri spostategli le sedie e beh è super inquietante infatti comunque quindi lui va a scuola e poi dopo scuola c'ha quest'obbio di entrare a casa delle persone quando arriva a 15 anni si prende una cotta per una compagna di scuola che è Annie Andrews o Tina Bowen scegliete voi che nome vi piace di più comunque lui si prende sta cotta per questa ragazza qui e riesce in qualche modo a procurarsi il suo numero di telefono che quindi il numero di telefono di casa sua ricordiamoci anno e tanto quindi a un certo punto telefona a Annie si fa passare Annie e Annie risponde e gli dice ciao sono Danny sono un ragazzo di un'altra scuola della zona cioè dice non vado a scuola con te vado nella scuola vicina però lui andava a scuola con lei in realtà dice guarda io sono alto, biondo, sono sportivo e ti ho notato perché stavo giocando alla partita di football che ha fatto la tua scuola con la mia ti ho notato sugli spalti e allora ho chiesto il tuo numero e delle tue amiche me l'hanno dato e allora i due si mettono a chiacchierare chiacchierano amichevolmente va tutto bene e poi mettono sul telefono nelle sere successive Danny continua a chiamare Annie e i due chiacchierano diventano in un certo senso amici telefonici Annie si trova molto bene a parlare con questo ragazzo che più o meno la chiama ogni due tre sere quindi spesso senza essere molesto giusto imparate ragazzi spesso senza essere molesto esatto esatto ma imparate fino a qui poi il resto di come procede la storia non ascoltiamo no esatto esatto ma più che altro perché non ci sono le case con i muri con le intercapedini qua se no potete farlo benissimo anzi una grande idea una grande idea comunque dopo un po' di queste telefonate finalmente Danny chiede a Annie di incontrarsi di persona e lei accetta dice oh finalmente esco col mio bel quarterback alto e biondo con gli occhi azzurri che è tra l'altro questa descrizione è l'esatto contrario di come è Daniel nella vita reale allora dalle foto a me non sembra basso perché tutti dicono questa descrizione è l'opposto di com'è effettivamente se guardi le foto la descrizione è l'opposto di com'è però lui dice alto ma lui in realtà non era basso almeno a giudicare dalle foto a meno che è sempre fotografato con gente molto bassa che può darsi possibile vabbè comunque non è non è importante comunque Danny perché lui si fa chiamare Danny che poi è Danny era il diminutivo si 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 chiamiamo Danny comunque Danny va a prendere Annie ovviamente la va a prendere a casa quindi busta lei apre la porta tutta vestita carina tutta contenta di conoscere questo bel biondone e si trova davanti Daniel Laplante con tutti i suoi brufoli poi i capelli cioè non sarà manco lavato i capelli questo capito cioè i capelli unti ora se tu cioè non è che puoi fare più di tanto no se sei brutto sei brutto in realtà poi non è vero perché ti puoi migliorare in mille modi certo però vabbè non è colpa tua se hai un certo aspetto però cazzo i capelli lava lì eh beh cioè sì ma non solo i capelli cioè lavati in generale lavati prima di un appuntamento sei riuscito a ottenere l'appuntamento con la ragazza per cui è una cotta lavati almeno no vabbè comunque Annie apre la porta ci resta malissimo potete immaginarvi ma ma dato che sono gli anni 80 e tutta la società tutti i film di quel periodo cercano di inculcare nella testa delle ragazze che devono essere gentili e carine con i ragazzi sfigati che invece è un errore è un grave errore siate stronze ragazze siate sempre stronze però lei no pensa poverino poverino accetta di dargli comunque una possibilità no cioè lei lo vede che non è come lui si era descritto però lei dice io ci ho parlato con lui in queste settimane abbiamo chiacchierato amabilmente usciamoci no diamo una possibilità a sto ragazzo perché l'aspetto fisico non è tutto escono insieme e vanno alle giostre giusto per dare un altro tocco di inquietudine a tutto questo e per far sembrare tutto sempre appunto un film horror degli anni 80 perché ci sono tutti gli elementi fino adesso si 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 comunque escono insieme chiacchierano e lei racconta comunque del fatto che da poco tempo ha perso sua madre e Daniel a quel punto inizia a farle delle domande tu dici è normale no cioè dici ah caspita ma come la stai prendendo come sta andando tu pensi no le domande che fa lui è com'è morta e fin qua domanda legittima ha sofferto è già meno legittima ma quanto si è prolungata la sua sofferenza ma è morta proprio all'improvviso o hai visto la luce nei suoi occhi che si spegneva lentamente sì ok ok a quel punto Annie è lì che ha capito la grande lezione della sua vita che è mai dare una possibilità agli sfigati no esatto mi spiace la triste realtà è così e quindi chissà come mai Annie decide di non vedere mai più questo Danny passa qualche giorno e qua torniamo all'inizio perché Annie e qua torniamo all'inizio perché è a questo punto che Annie e sua sorella provano a fare la seduta spiritica ed è a questo punto che in qualche modo Daniel si era infilato nelle pareti di casa di Annie perché lui sapeva benissimo dove abitava Annie probabilmente osservava la casa da tempo sapeva gli orari di tutta la famiglia gli orari del lavoro del padre lui era un esperto a entrare nelle case altrui e quindi forse si è messo lì a fare questo buco che comunque era dietro un armadio quindi non lo noti si ho capito tu comunque nella parete ci devi entrare cioè per fare il buco verso l'interno della casa comunque nella parete ci devi entrare in qualche modo Marco cosa ti guarda dopo entreremo più nei dettagli su quanto sia realistica questa versione della storia ok si perché allora io adesso ve la sto raccontando in modo lineare per essere anche bella a livello narrativo però dopo non so analizziamo un po' meglio alcune cose alcune cose che potrebbero lasciarvi dubbiosi e avete ragione di essere dubbiosi mettiamola così comunque sta di fatto dopo appunto entriamo nei dettagli che sappiamo che Daniel viene arrestato messo in un istituto in cui resterà solo pochi mesi quando esce dall'istituto che cosa fa questo ragazzo continua la strage ah no ok eh Marco sì abbiamo spoilerato così la puntata no scusami no 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 allora lui continua col suo hobby di entrare nelle case e lui entra nelle case appunto rubacchia qualcosa ma sempre cose da poco solo che un giorno entra in una casa nuova e in questa casa nuova trova due pistole e si ruba tutte e due le pistole a fine novembre dell'87 a questo punto perché lui è stato un po' di mesi in istituto poi è uscito poi è stato un po' a girovagare nelle case arriviamo a novembre dell'87 a fine novembre entra per la prima volta in un'altra casa nuova la casa della famiglia Gustafsson da cui ruba una collezione di monete antiche giusto perché Gustafsson sono famosi per le monete però c'hanno il nome da numismatici da gente che colleziona e a lui però questa casa dei Gustafsson piace e decide di tornarci cosa che lui faceva abitualmente lui sceglieva le case che preferiva e tornava più volte quindi il primo dicembre 1987 si introduce di nuovo a casa della famiglia Gustafsson ma stavolta la casa non è vuota in casa ci sono Priscilla che è una giovane donna incinta e i suoi due figli di 7 e 5 anni la sera sempre del primo dicembre Andrew Andrew Gustafsson quindi il marito di Priscilla torna a casa e nessuno gli apre la porta dice che straccia perché di solito tutta la sua famiglia lo accoglie quando torna dal lavoro no? allora va in camera da letto e si trova davanti una scena agghiacciante sua moglie Priscilla è sul letto completamente inzuppata di sangue cioè tutto è un lago di sangue che però è stato assorbito dal letto no? certo cioè lei completamente ricoperta di sangue in queste lenzuola completamente ricoperta di sangue i bambini non si sa dove sono quindi Andrew chiama subito la polizia la polizia arriva e vede che Priscilla era stata uccisa a colpi di pistola ma prima era stata brutalmente violentata in tutti gli orifizi e purtroppo la polizia trova anche i bambini Andrew non li aveva trovati perché lui dice che era rimasto talmente paralizzato dal terrore che non se l'è sentita di girare per la casa e ci sta ci sta i bambini questa questa era una bella casetta aveva due bagni i bambini vengono ritrovati ognuno in un bagno entrambi affogati nella vasca da bagno quindi uno in una vasca e uno nell'altra non si sa cosa possa essere successo ma la polizia guarda un attimino chi sono i pregiudicati nel vicinato e vede che Daniel uno che si introduceva nelle case altrui abitava lì vicino a conferma di questa cosa che quindi non stanno sospettando una persona a caso quando portano i cani sulla scena del delitto i cani seguono la pista proprio fino a casa di Daniel e quindi la polizia dice vabbè andiamo a interrogarlo quindi vanno a interrogarlo Daniel non era a casa quando vanno a interrogarlo ha preso a madre in quel momento Daniel sta tornando a casa vede che c'è la polizia davanti a porta di casa sua e inizia a correre come un pazzo ovviamente ti notano facendo così e quindi si mettono a inseguirlo non si sa però come cazzo fa riesce a far perdere le sue tracce cosa che aveva già fatto in passato ti ricordi che Brian in casa l'ha rincorso lui scompare ogni tanto perché lui è un fantasma comunque per due giorni non si sa dove cazzo sia verrà ritrovato in una città limitrofa dentro un cassonetto ma in che senso ma in che senso è che ha però il cassonetto certo Marco non lo so però perché perché lo trovano lo trovano grazie alla denuncia di una signora perché lui il giorno prima del ritrovamento quindi il giorno dopo la sua fuga lui aveva aggredito una signora e le aveva rubato la macchina sta signora aveva fatto la denuncia forse aveva fatto l'identikit non lo so hanno capito che era lui quindi sono andati in quella zona alla fine l'ha trovato in un cassonetto non lo so ovviamente lo arrestano lui si dichiara subito innocente per infermità mentale come dà di torto effettivamente non hai torto comunque viene processato lui appunto dichiarato innocente per infermità mentale nonostante l'infermità mentale sia praticamente un dato di fatto viene comunque condannato a tre ergastoli giusto questi sono tre omicidi quattro se vogliamo contare che Priscilla era incinta che normalmente non lo conterei però questo era un figlio voluto quindi cazzo lo conto certo sì no certo sì assolutamente sì comunque Daniel viene condannato a questi tergastoli secondo te stali buono a scontarseli tranquillo no si mette a fare appello lui fa appello e l'appello viene accolto viene accolto perché effettivamente tutte le prove che ci sono contro di lui sono circostanziali certo ricordiamoci che l'87 non hanno il dna no non c'è una prova schiacciante lui non è stato arrestato in flagranza di reato ok e quindi lui fa appello che viene accolto quindi viene fatto il processo d'appello e la condanna a tre ergastoli viene confermata ma il giudice spiega la confermo solamente perché in Massachusetts non c'è la pena di morte giusto giusto va bene ed è dopo questo processo per questa terribile e insensata strage familiare che i giornali iniziano a parlare di questo Daniel Laplante perché nella prima storia che vi ho raccontato non è che poi ne avevano parlato i giornali sto ragazzo si era introdotto in casa non era morto nessuno non era stato ferito nessuno era finita lì però quando poi i giornalisti si documentano su questa persona vien fuori sta storia iniziano a venire fuori gli articoli e gli articoli secondo me sono un pelo troppo fantasiosi molti articoli parlano di un ragazzo che viveva nei muri che ha vissuto per settimane nei muri degli Andrews addirittura c'è un film il ragazzo nel muro addirittura ma forse c'è un altro film che è la casa nera di Wes Craven ah non lo so è in cui il titolo originale è People Under The Stairs cioè sotto le scale sotto le scale però parla di questo ragazzo che entra in questa casa eccetera e poi appunto c'è trova altri ragazzi che vivono nello scantinato di questa famiglia che li tiene chiusi lì eccetera però si muovono attraverso le intercappedini dei muri adesso non mi ricordo benissimo il film che l'ho visto un po' di tempo fa però così invece quello ragazzo nel muro sì una roba del genere The Boy in the Walls non l'ho visto però ho letto che è ispirato a questa storia comunque andando a spulciare tra questi articoli si nota anche un un crescendo di assurdità quindi sì i primi articoli che sono usciti sulla planta non parlavano di lui vestito da sposa no ok no e non parlavano di lui che viveva addirittura nei muri perché in realtà ma col cazzo che ci ha vissuto nei muri gli piaceva introdursi in quella casa lì poi non ti so dire se effettivamente c'era il buco nel muro o se è una cosa di fantasia anche quello questo non te lo so dire perché poi non è andato a processo per quel fatto lì quindi non abbiamo i dati processuali abbiamo solo dei ritagli di giornale degli anni 80 sì sì ma poi io mi chiedo quanto deve essere lento il padre di queste due ragazze che lo insegue e lui ha il tempo di entrare in camera spostare l'armadio entrare nel muro e rimette l'armadio e il padre arriva e dice oh è sparito hai perfettamente ragione Marco comunque poi la cosa che mi fa ridere è che i primi articoli non dicono che era vestito da sposa ma dicono che era vestito da ninja oppure che era truccato da nativo americano non so perché dal ninja dal nativo americano poi si sia arrivati alla sposa questo non lo so altri articoli parlano del fatto che lui aveva degli abiti femminili non da sposa e la parrucca arriva dopo allora allora cioè allora in Kill Bill di Tarantino la protagonista Uma Thurman è la sposa nel secondo film si veste da ninja più o meno da Bruce Lee con la tutina gialla da ninja eccetera e usa la katana quindi anche Tarantino si è ispirato a questa storia a podarsi podarsi no però cioè da vestito da ninja a vestito da sposa cioè c'è un bel salto eh sì eh sì eh sì vabbè in sostanza che cosa possiamo imparare da questo cioè questa è una storia che parte certamente da una base di realtà perché questa persona Daniela Plante esiste ed è attualmente in carcere scontare i suoi tre ergastoli effettivamente risulta che lui cosa no l'orgastolo 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 è l'orgasmo in ergastolo sì esatto no e quando sei costretto a stare con una persona che non ti piace dici ah no cazzo questo matrimonio è una prigione però intanto ti fa godere tanto quindi è l'orgastolo ergastoli ergastoli sta scontando i suoi ergastoli quindi questa storia parte certamente da una base di realtà però poi è diventata leggenda perché comunque piaceva questa idea molto horror del ragazzo che vive nei muri cioè ti dirò ti dirò secondo me può anche darsi che le due sorelle non abbiano mai fatto una seduta spiritica può darsi che non siano mai apparse scritte sui muri sì infatti questa cosa qua allora se devono inventare possono inventare è possibile anche che lui sia entrato in quella casa lì dalla finestra e poi da lì sia diventato il buco nel muro lui aveva nel muro eccetera perché io capisco le intercapedini però secondo me muoversi all'interno delle intercapedini in una casa cioè qualche ostacolo lo trovi cioè non penso che abbiano fatto una casa esterna poi una casa un po' più piccola interna e sia tutto vuoto tra le due non lo so però effettivamente se l'hanno grandina le intercapedini gli americani c'è una puntata di Zulli Sanni in Filadelfia che il gatto di Dee entra nel buco del muro e non riescono a tirarlo fuori giusto allora Frank prova a buttare un altro gatto nel muro Frank tra l'altro è interpretato da Danny De Vito quindi ragazzi guardatevelo il Zulli Sanni poi provano con gli uccelli dovevano provare subito con un pitone però poi effettivamente vabbè ma questi cazzi tanto non è successo secondo me comunque questa è fantasia la realtà è che Daniel era sicuramente un ragazzo disturbato e chiaramente pericoloso come dimostra la strage che ha commesso appena uscito dall'istituto tra l'altro quindi anche lì l'hai rilasciato in base a cosa questo che si introduce nelle case altrui ma infatti poi l'hai rilasciato così libero di tornare a casa sì l'hai rilasciato alle cure di sua mamma che si è dimostrata una persona veramente molto attenta nei confronti di suo figlio sì sì ma già da quando era piccolo e infatti comunque lui si sta scontando questi ergastoli non ergastoli ma non non in pace in tranquillità perché deve continuare a rompere i coglioni allora nel 2013 lui denuncia la prigione perché non gli permette di esercitare la sua religione cioè il satanismo allora questo è quello che riportano i giornali in realtà in realtà lui aveva detto che la la prigione non gli permetteva di esercitare la sua religione che non era satanismo era la wicca però wicca i giornali l'hanno tradotto con satanismo vabbè ovvio vabbè la wicca cos'è essere pagani praticamente per dirlo terra a terra per spiegarlo velocemente abbiamo parlato sicuramente nelle puntate dei tre di west memphis sì sì ma poi c'era anche una ragazza che era si era avvicinata alle bestie di satana che praticava la wicca la fidanzata di paolo e poi era sparita cioè poi se n'era andata perché praticava la wicca tipo ok ecco vedi però Daniel dice che non gliela fanno praticare e sai perché non gliela fanno praticare perché lui dice che non gli stanno procurando gli oggetti necessari per praticare la sua religione per usufruire della libertà religiosa che va garantita anche in carcere lui aveva chiesto al carcere di procurargli 36 oli essenziali per le cerimonie 36 23 erbe 16 tè diversi perché a seconda di come è la luna devi bere un tè diverso e delle tuniche da cerimonia e si era molto indignato quando gli hanno detto no tu devi tenere l'uniforme che sono gli stanni carceri americani hanno l'uniforme e lui dice no però per la mia libertà religiosa voglio andare in giro in tunica certo perché qua sei in un albergo sei in un residence a quattro stelle il signorino vuole altro che cazzo sei i barbieri che chiama vediamo quanto ci meccano no ma i 36 oli essenziali mi hanno fatto morire 36 vabbè e comunque niente questa cosa qui finisce cioè lui denuncia la prigione ma lo mandano a fanculo ma non smette ma secondo me perché nella prigione hanno tutti i satanisti che non volevano che proprio la prigione era satanista e non volevano che lui praticasse la wicca se lui avesse chiesto 36 bambini vergini glielo avrebbero portati subito subito però aspetta facciamo un disclaimer sappiamo benissimo che il satanismo non è questo stiamo facendo battute che si collegano a puntate precedenti perché ci sta ascoltando per la prima volta ok il satanismo è una corrente filosofica lo sappiamo comunque non una religione comunque nel 2017 continua a rompere le balle stavolta presenta un altro appello dicendo che la sua pena deve essere ridotta perché quando aveva commesso gli omicidi era ancora minorenne e io mi chiedo ma perché sta cosa non l'hai detta al primo appello perché effettivamente era un buon appiglio perché secondo me lui non andando bene a scuola non sa leggere bene quindi ci sta mettendo tanto a leggere il codice penale americano adesso è arrivato al fatto del minorenni sono passati 40 anni tipo 30 30 e ho capito ognuno ci mette il tempo che ci mette ok vabbè comunque questa volta quest'appello gli dicono cazzo c'hai ragione non ci eravamo accorti che eri minore vabbè e quindi e quindi gli dicono potrai chiedere di uscire prima e intanto ti trasferiamo in un istituto psichiatrico criminale quindi lo tolgono dalla galera lo metto in istituto psichiatrico e lui potrà richiedere di uscire nel 2032 quindi lui comunque allora intanto non è garantito che lo faranno uscire lui può richiedere di uscire però comunque avrà scontato 45 anni di carcere se anche lo fanno uscire e questa è la storia di Daniel Laplante cioè lui tra l'altro è più famoso per andare in giro per i muri vestito da sposa con un'ascia in mano invece che per la strage che ha commesso capito certo ma l'ascia era dotazione cioè nel senso era faceva parte del vestito da sposa dalla mamma di queste qui guarda sì 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 perché quando iniziano a parlare di ascia hanno iniziato a parlare di abito da sposa quando parlavano di ninja non c'era l'ascia e no c'era la catana cioè ci sarà stata una catana le stelle ninja non era niente però mi sa no aspetta ho detto una cagata perché mi sa che l'ascia c'era quando invece era vestito da nativo americano ok ah ok va bene che cosa sarà successo veramente non lo sappiamo probabilmente nulla di tutto questo no esatto esatto però è molto romantico pensare che un ragazzo viva nei muri perché è innamorato della proprietaria di casa a me viene in mente la leggenda metropolitana quella della passatemi il termine della zingara che ti vive in casa dorme sotto il tuo letto ed esce quella leggenda metropolitana lì che mi fa molto cioè è agghiacciante è agghiacciante mamma mia vabbè qua è peggio perché poi ha ammazzato una famiglia intera io penso mamma mia al povero Andrew wow terribile terribile e niente ragazzi purtroppo non abbiamo potuto fare un'analisi psicologica andando a fondo di a fondo non riesco più neanche a parlare andando a fondo di Daniel Laplant sappiamo che è disturbato sicuramente ha avuto un'infanzia terrificante e di più non si sa noi speriamo che questa puntata atroce vi abbia intrattenuto e vi diamo appuntamento settimana prossima esatto e fateci sapere cosa ne pensate la puntata nei commenti sotto la puntata di spotify o altrimenti sui nostri social che sono cremincomedy.podcast su telegram che è cremincomedy group o se no c'è il sito cremincomedy.it e noi ci sentiamo settimana prossima per un'altra capsule assolutamente parlando di settimana prossima io vi ricordo che la settimana prossima sono a disney world in florida quindi se volete seguirmi su instagram metto un po' di stories quindi alla prossima ragazzi ciao ciao iscriviti al canale iscriviti al canale ciao 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 Grazie a tutti.